La vita sui social network sta diventando monotona. La dittatura del politicamente corretto ti impedisce di esprimerti liberamente. Oramai insultare qualsiasi categoria di persone e augurare loro una morte cruenta è diventato addirittura illegale. Ma non ti preoccupare, da oggi c'è OdiaTroll, la nuova app per odiattori seriali. Con OdiaTroll hai più di mille profili fake a disposizione e di una serie di innumerevoli personaggi dietro il quale nasconderti. Dal rassegnato intellettuale di sinistra al fascista dichiarato. Dall'innocente fagiura della porta accanto al più sospettoso dei complottisti. Con OdiaTroll, odiare non è mai stato così divertente. Competi con i tuoi amici ed inventa l'insulto gratuito più divertente. E se la persona insultata si offende, guadagni punti bonus. Più like riceverai e più possibilità avrai di scalare la nostra classifica. Ogni settimana ci sono in palio dei fantastici premi. Teste di cavallo, barili di napalm, coloratissimi manganelli wireless. Scarica immediatamente la nostra app. Non lasciarti sfuggire l'occasione di poter odiare in maniera completamente anonima. OdiaTroll, la tua insoddisfazione è la nostra forza.